Edbanger, Lombardia, Italia, nascono qui le custom Edbanger, motore americano, stile e telaio made in Italy. Per il 2012 le novità sono molte, a partire da Summertime e Woodstock Boogie, che montano il sontuoso bicilindrico S&S in versione 93 pollici cubi. Tutta la gamma è stata affinata, rivista nei dettagli e resa ancora più accattivante e anche più funzionale. La Hollister ad esempio è ora proposta in due versioni, Size L, Long e Size S, Small, pensate rispettivamente per i piloti alti e per i piloti di corporatura minima. Un'opzione in più, quanto mai utile, che può essere richiesta anche per gli altri modelli in gamma. Perché Edbanger è innanzitutto personalizzazione, dalla verniciatura alla componentistica, tutto può essere scelto dal cliente, che può farsi realmente costruire una moto su misura. E a Lakema ne abbiamo avuto dimostrazione, con il prototipo Roll Me Away, un trike, e con la Hollister dedicata a Janice Joplin e chiamata Pearl with Love. La storia nostra è una storia, io dico italiana, di quelle tipiche, in realtà spesso sconosciute. Cioè noi abbiamo pensato che ci fosse una possibilità di presentare delle moto fatte, diciamo, americane, ma fatte in Italia. Cioè mettere insieme il gusto italiano con il modello americano di moto, che io credo sia il moto più moderna che c'è.